Ciao a tutti ragazzi e ragazze, adesso sono pronta per girare la seconda parte del video come truccarsi con solo 5 prodotti. Nel video precedente avevo già preparato le due pochette per darvi due alternative e in questo video vi farò vedere come truccarsi con solo i 5 prodotti utilizzando appunto questi che ci sono qua dentro. Come pennelli ho scelto questi, due per gli occhi, adesso vi faccio vedere meglio, due per gli occhi, uno piatto e uno sfumino, questo della Nabla che va benissimo per mettere anche la terra e poi questo della It Cosmetics che adoro alla follia perché ha sia la parte per tendere in fondo sia quella per il correttore dove sei, eccolo qua, perfetto. Allora continuate a seguire il video mi tiro indietro i capelli e iniziamo. Allora ho portato indietro i capelli e vi mostro cosa c'è all'interno della mia trousse. Allora come prima cosa in questo pochetto ho messo un primer, questo è il Vegan Face Primer and Serum della Kiko. Allora dice che è un 2 in 1 base viso e sero idratante, io comunque vi consiglio prima di usare qualsiasi tipo di trucco di applicare la vostra skincare abituale. Quindi iniziamo subito dal primer e lo proviamo. Questa è della collezione vegana. Io l'ho trovato ancora nello store Kiko, quello vicino casa e adesso vediamo un po' come di sicuro la funzione principale di un primer è quella di far durare di più il make up. Perciò quando si consiglia l'applicazione di un primer quando dobbiamo tenere su il trucco per molte ore. Come ho detto nell'altro video queste pochette con suoi cinque prodotti sono comodissime da portare quando abbiamo poco tempo a disposizione per truccarmi oppure quando viaggiamo e non vogliamo portare tutta la trousse, chiaramente tutti i trucchi che abbiamo a casa, chiaramente, magari dobbiamo stare via solo da due giorni e quindi insomma è utile che ci portiamo il bauletto gigante per fare solo due giorni fuori. Dopo aver messo il primer, applico la CC Cream della It Cosmetics. Questa io l'ho quasi finita, io l'adoro, cioè è proprio fantastica per quanto mi riguarda. Metto un pump e vediamo un po' se poi serve altro prodotto. E questa la massaggio con movimenti circolari. Allora non fatevi ingannare dal nome, nel senso è una CC Cream, ora è molto conferente, cioè direi che è quasi più un fondotinta che una CC Cream, però all'idratazione della CC Cream. Scusate ho dovuto bloccare il video perché mio figlio aveva bisogno del bagno, comunque continuo dicevo ad applicare il prodotto. Ah, vi dicevo non fatevi ingannare dalla dicitura della confezione perché c'è scritto CC Cream. Invece secondo me questo è a tutti gli effetti un fondotinta e tra l'altro ha un effetto fantastico sulla mia pelle. Ok, per cosa facciamo? Dovendo portare pochi prodotti, io ho scelto di rinunciare al correttore perché appunto questa CC Cream è decisamente coprente. Quindi col pennellino fatto appositamente per il correttore metto un po' di CC Cream, vado a posizionarla nell'occhiaia e scendere con questa parte del pennello lo stendo. Non sfumo troppo perché comunque mi interessa che questa zona rimanga più coperta. Perfetto. Comunque ha coperto l'occhiaia. Certo non è come se avete delle occhiaie molto molto pronunciate, è chiaro che solo questa non vi basta. Avrete bisogno anche di un correttore aranciato sotto. Però diciamo che se non avete grossi problemi di occhiaie e non volete portarvi dietro, come dicevo prima, tutti i trucchi avete a casa, questa comunque è un'ottima alternativa. Allora, abbiamo steso la CC Cream, quindi abbiamo già utilizzato due prodotti e adesso passiamo con l'applicazione della cipria. Uso questa della Purubia, che è quella di Slug Silk Powder. Come sapete, ormai per chi ha già visto qualche video, io la pelle non secca ma desertica, perciò di cipria ne metto giusto un pizzico, però chiaramente mi serve per fissare il prodotto e per fare in modo che quello che applicherò sopra sia insomma resista di più. Allora, non vado tanto a incipriare adesso questa parte perché devo usare un prodotto in crema, quindi lo inciprerò successivamente, devo farlo dopo, ma me ne sono completamente dimenticate. Vabbè, vediamo se non ho combinato i disastri. Allora, come terzo o quarto prodotto, anzi, ho scelto questo della Kiko, che è il 3 in 1. Questo è il Tuscan Sunshine, della collezione Tuscan Sunshine, 3 in 1 o l'overstick. Questo stick può essere utilizzato sugli occhi, sulle labbra e sulle botte. Meglio di così, non si può, nel senso, non penso che un prodotto possa essere più utile di questo. Adesso, con un pennello piatto, prendo il prodotto e lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile. Ok, lo faccio anche dall'altra parte dell'occhio. A questo punto mi aiuto con un pennellino da sfumatura, prima che si asciughi, e vado a diffondere i bordi e a portarli verso l'alto e l'esterno, in modo da dare comunque un tocco di colore al nostro occhio. Anche questo stick è morbidissimo della Kiko, eh? Allora, la Kiko fa dei prodotti super top e altri che sono proprio delle cioffecche, però, noi ci accattiamo questi super top e lasciamo da parte le cioffecche. Ecco qua. Adesso, dato che è un po' sbordato, col pennello da sfumatura mi aiuto e vado a ripulire questa zona. Volendo, posso anche portare il prodotto leggermente qua sotto, giusto per colorare un po' anche la parte inferiore, con quello che è rimasto. E mi congiungo con la sfumatura di prima. Ecco qua. Allora, questo prodotto, dicevo, può essere usato anche come terra oppure come blush. Noi lo proviamo come blush e terra, tipo effetto sun kissen, ovvero bacio del sole. L'ho detto un po' anche sulla fronte. È morbidissimo. Ho incipriato, non avrei dovuto incipriare, però mi sono dimenticata. E comunque, anche se ho incipriato, il prodotto si sfuma, che è una meraviglia. Questo perché non ho messo molto a cipria, e quindi... Purtiamo anche qua. Purtiamo un po' sul naso. Sfumiamo qua l'attaccatura dei capelli. Cioè, guardate, si sfuma solo a sfiorarla. Ok. E poi andiamo un po' qua anche sul collo. E portiamo verso il basso. Io non so perché ho questi abbassamenti di voce questi giorni, ma... E così, quindi ci riteniamo. Allora, questo prodotto, tra l'altro, può essere utilizzato anche sulle labbra. Perciò cosa faccio? Rimuovo, come sempre, il burro a cacao che utilizzo prima di iniziare il make-up. E semplicemente prendo un pennello un po' più piccolino. Vediamo cosa ho velocemente a disposizione. Sto dando una sbirciata veloce. Ok. Prendo questo pennello piatto. Prendo un po' di prodotto. E la uso come se fosse un rossetto. Allora. Non è cremoso anche sulle labbra. L'effetto è molto naturale, come potete vedere. Mi piace. Mi gusta. Allora. Così prendiamo un po' di cipria, così fissiamo meglio la crema. Menomale ne ho messo a poca. Non fatelo mai, eh. Non fatelo mai di mettere prima un prodotto in crema. Cioè, prima la cipra e poi un prodotto in crema. Io mi sono distratta un attimo. Menomale ne metto poca. Quindi poi, come avete visto, il prodotto non ha lasciato nessun tipo di macchia. Anzi, si è steso alla perfezione. Ok. Basta così con la cipra, altrimenti mi secca troppo. E poi, come ultimo prodotto, vado ad utilizzare questo mascara. Questo l'ho preso da Acqua e Sapone, è della L'Oreal, ed è il Waterproof L'Oreal Paris. E ha due parti. Lo avvicino così lo vedete meglio. Allora, c'è la parte 1. C'è scritto qua, il piccolino 1. E qua c'è la parte 2. Cosa serve? Ah, si chiama X Fever, Falsy Lashes, Falsy Slash, Extreme Resist. Proviamo, se dobbiamo ottenerlo tutto il giorno. Ah, sì. Questa è la parte 1. Vi faccio vedere su un occhio, così vediamo anche un po' la differenza. Allora, questa parte dovrebbe servire a rinfoltrire le ciglia e a dare un po' più di volume, diciamo. Ah, se sentite in sottofondo i miei figli, stanno giocando col babbo e non so se faccio più chiasso il mio marito o i miei figli. Allora, aspettiamo un attimo che asciughi. Nel frattempo, vabbè, faccio anche l'altro occhio, così non ci penso più. Sto controllandosi di mettere la parte 1. Così, mentre faccio quest'occhio, l'altro si asciuga e posso procedere con la parte 2. Vado bene anche qua alla fine delle ciglia, in modo che il mio sguardo sembri più allungato. Ecco qua. Adesso, da questa parte che dovrebbe essere già asciutto, utilizziamo la parte 2. Vedete che lo scovolino è completamente diverso dal precedente. Vi faccio vedere la differenza. Ci sono proprio due scovolini completamente diversi. Questo dovrebbe incurvare e allungare le ciglia. Mi dimentico sempre di piegarle. Diciamo pure che in realtà ho il terrore delle ciglia. Non so perché, non è un tool che uso molto volentieri. Non so se potete notare l'effetto, ma c'è e si vede. Prendo un altro po' di prodotto, levo gli eccessi. E lo vado a mettere anche nell'altro occhio. Parto dall'attaccatura e porto su verso tutte le ciglia. Definisco bene anche la parte finale. Ecco qua. E questa è la seconda opzione per realizzare un make-up con solo 5 prodotti. Vi faccio vedere, vi ricordo quelli che ho utilizzato. Allora, primer. Sisi cream, no, fondotinta. Cipria, ne siamo a 3. Poi abbiamo lo stick 3 in 1 della Kiko. E il Rimmel. Quindi con 5 prodotti, questo è il risultato finale. Adesso levo questi maledetti becchi d'occa che non sopporto. Poi tra l'altro mi si incastrano nei capelli, anche se li metto con attenzione. Che male, che fastidio. Ecco qua. Il make-up è completo. Stendiamoci un po' i capelli, anche in abbinata agli orecchini. A me piace molto come risultato. Fatemi sapere voi se preferite la parte 1 di questa mini serie di video, se preferite questa seconda parte. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella con tutte le notifiche. Vi ringrazio per avermi seguita e vi mando un bacio. Ciao ragazzi, ciao ragazze.